Oggi vi presento una delle mie ricette preferite per la colazione, Birker Muesli, anche conosciuto come Overnight Porridge. Naturalmente ci vanno i fiocchi d'avena, ma trovate tutti gli ingredienti in descrizione. Una bella mela grattugiata, mischiamo tutto quanto, io aggiungo anche un po' di mandorle in scaglie e granella di pistacchio. Dobbiamo lasciar riposare tutto quanto in frigo per una notte. Yum! Che bella giornata! Adesso andiamo, riprendiamo il nostro muesli e ci aggiungiamo dei frutti di bosco e perché no, anche un po' di crema di pistacchio. Niammi, buona colazione! Ciao!